La colonna vertebrale ai fattori di rischio è questo il titolo del convegno che l'1 e 2 aprile si terrà all'hotel Baia Flaminia. Prevenzione è il concetto cardine da sviluppare in questa sede per quello che riguarda luoghi di lavoro e luoghi scolastici. Il convegno è organizzato dalla Fondazione Scoliosi Italia Onnus e dall'Ordine dei Medici della provincia di Pesaro Urbino. La organizziamo in quanto la colonna vertebrale, questa struttura molto importante che dobbiamo difendere e che invece è poco conosciuta, infatti è la cenerentola della conoscenza. vogliamo far sì che ci siano settori come la scuola e il mondo di lavoro, possono essere una conoscenza per attuare prevenzione ed evitare e limitare quei danni giornalmente a cui è sottoposta, come la sedentarietà, la non conoscenza soprattutto della colonna, l'obesità, che sono i fattori di rischio che possono portare mal di schiena e alterazioni metaboliche. La causa invalidante e più costosa nei paesi industriali d'Italia è questo mal di schiena che ha alti costi sociali, alti costi per la produzione, per mancanza di donate lavorative perse, quindi ha un costo anche sul sistema sanitario nazionale e con un'incidenza da 75-90%. Il mal di schiena che colpisce i giovani dalla scuola elementare, quindi in crescita il 12%, 12,7% meglio, scuola elementare, 44 scuola media, 60 scuola superiore e 80 all'università. Un altro fattore di rischio costante è la mancanza di screening, perché è un grave fattore di rischio nell'età evolutiva che può causare trattamenti tardivi e quindi portare a interventi chirurgici o anche a problemi, meccanismi di compenso negativo in età evolutiva. La fondazione ha proposto questo progetto di osservazione posturale fatta direttamente a scuola dagli insegnanti e che è un progetto che si inserisce bene nell'iniziativa della scuola, la scuola promuove salute, quindi questo è previsto. Quindi inserire questa osservazione non significa sostituirsi al medico, ma al fatto che anzi l'insegnante può mandare al medico in tempo reale, giusto, in tempo. Quindi quando ha un dubbio lo manda dal medico. Ma perché la scuola, perché è la sele elettiva di ogni intervento educativo ed è l'unica che raggiunge in modo capellare la popolazione in crescita. E poi c'è il vantaggio che intervenendo sulla prevenzione c'è il risparmio delle spese sanitarie. Non solo a scuola ma anche nell'azienda si può attuare questo programma di prevenzione facendo formazione all'interno della fabbrica, insegnando all'operatore, all'impiegato come usare la sede in modo dinamico quindi una postura dinamica e cosciente che eviterà di accusare questo disturbo che porta a questi grossi costi aziendali. E quindi il convegno vuole essere un'analisi dello stato dell'arte, una revisione critica ma propositiva, costruttiva e fare vedere le iniziative già in atto che ci sono in Italia e anche da noi nella provincia e come diffonderlo sul territorio.